Resident Evil Village vuole regalarci un'esperienza horror da sapore inedito. Basta dare un'occhiata agli ultimi trailer per evidenzare le numerose differenze stilistiche e in qualche modo biologiche che separano le ambientazioni e gli abomini di Village dalle controparti degli altri Resident Evil. Oltre a provare a spiegare l'origine di questi esseri tra esoterismo e fantabiologia, abbiamo colto l'occasione per riscoprire le maggiori minacce dell'intera serie, dal virus T fino al superorganismo fungino di Resident Evil 7. Prima di proseguire vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto di EvryEye.it. In Resident Evil molti degli orrori affrontati dai giocatori sono scaturiti da un particolare fiore che nel XIX secolo è stato chiamato Scala Verso il Sole dall'esploratore Harry Travis. Attorno agli anni 70 Oswald e Lee Spencer, James Marcus e Edward Ashford che in seguito avrebbero approfondato da Marella Corporation, si sono recati in Africa per trovarlo e cominciarne la coltivazione intensa in laboratorio. I tre uomini intendevano ovviamente ricavare un virus che si celava all'interno dei fiori. Il patogeno, poi ribattezzato progenitor, era in grado di mutare il DNA di un ospite umano o animale, conferendogli nuove abilità e spesso anche dei tremendi effetti indesiderati. Ed obbligo a questo punto raccontare la storia della famiglia di George Trevor, l'architetto che ha disegnato e fatto costruire la lugubre Villa Spencer. Mentre Trevor è morto tra le mura della sua opera, sua moglie e sua figlia sono diventate le prime cavie umane su cui è stato sperimentato il virus progenitor. L'infezione non ha prodotto risultati soddisfacenti in Jessica, che poi è stata eliminata, ma ha reso la piccola Lisa forte, coreacea e al contempo mostruosa. L'ultima dei Trevor è stata solo la prima di un'orrida serie di armi bioorganiche venute alla luce grazie ad altri ceppi legati al progenitor. Il virus Tyrant, conosciuto dai più come virus T, è in realtà un nome con cui si indicano una moltitudine di varianti differenti. Basti pensare a quella modificata con l'RNA del virus Ebola che ha visto nascere celebre zombie del gioco. In uno di questi esseri a tale proposito è stato trovato un ceppo mutato in grado di provocare il cosiddetto processo V-ACT, che permetteva ai normali infetti di tramutarsi nei ben più agili e feroci Crissomhead. Sempre legata a tale processo è anche un'altra celebre mutazione degli zombie che ha fatto il suo debutto in Resident Evil 2. Durante l'incidente di Raccoon City infatti Leon e Claire hanno dovuto combattere i Licker, rivoltanti quadrupedi col cervello esposto che si sono distinti per la rapidità dei loro valzi e gli artigli affilati. Sorvolando sui Cerberus, i cani zombie apparsi in diverse avventure, vogliamo citare anche gli Hunter, degli ibridi realizzati tramite la combinazione degli uovoli umani col DNA di rettile ed una dose di virus T. Arriviamo quindi a parlare delle armi bioorganiche. Grazie alla variante Epsilon del patogeno, gli scienziati senza scrupoli dell'ambrella sono riusciti ad accelerare il processo di mutazione dei soggetti geneticamente predisposti a diventare dei Tyrant. Tra i primi successi legati al progetto ricordiamo l'esemplare T-002 di Resident Evil 1. Sempre più intelligenti e agguerriti, i Tyrant sono stati migliorati nel corso degli anni, grazie anche all'integrazione di Prassiti che menzioneremo più avanti. Prima di proseguire è doveroso citare altre varianti del patogeno a partire dal T-Veronica creato da Alexia. La giovane si è sottoposta al trattamento per poi cadere in un lungo sonno creogenico, in modo da entrare in perfetta simbiosi con questo virus nato dalla combinazione tra il progenitor e i geni di una formica regina. Chiudiamo il cerchio del virus Tyrant citando le varianti Abyss e Phobos, apparse rispettivamente nei capitoli Revelations e Revelations 2. Quest'ultima è forse la più interessante perché è stata creata dal team di scienziati guidato da Alex Wesker. Il Golgotha o Virus G era un altro del retrovirus appartenente alla famiglia del progenitor, sebbene fosse molto distante dal Tyrant. Dopotutto le mutazioni genetiche che causava erano così pesanti da non permettere più alle vittime di essere classificate come umane. Pur essendo al corrente della sua inefficacia, in tal senso Spencer ha permesso al talentuoso dottor Birkin di intraprendere una serie di macabri esperimenti sul virus G, interessato come era alla capacità del patogeno di riparare e rivitalizzare gli organismi già morti. Trovato nel corpo deportato dell'ormai irriconoscibile Lisa Trevor, il Golgotha è stato studiato sia dalla divisione europea dell'Umbrella sia da Birkin in un enorme laboratorio sotterraneo. Accecato dall'ambizione, Birkin si è iniettato uno dei campioni rimanenti del virus, che nel giro di pochi minuti lo ha reso un essere rivoltante e sempre meno lucido. Ad ogni sconfitta, l'inarrestabile nemico subiva delle mutazioni asimmetriche che lo rendevano sempre più letale e intenzionato a riprodursi in modo assessuato. Per farlo, Birkin G doveva impiantare un embrione G in un organismo compatibile. Da qui la caccia senza sosta a quella che una volta era la figlioletta Sherry, che in seguito all'infezione è stata salvata da Claire Redfield. Passiamo ora a Uroboros, il virus firmato da Albert Wesker. Quando questo è scoperto di essere stato parte di un progetto di eugenetica teso a dare il via ad una razza di superuomini, ha posto fine alla vita dell'ormai decrepito Spencer, ma al contempo ne ha ereditato il sogno. Ammassando fondi grazie alla vendita di armi bioorganiche, Wesker ha creato Uroboros, un virus capace di integrare i propri geni nel genoma dell'ospite. In origine Uroboros non avrebbe potuto legarsi a nessuno perché è troppo letale, un ostacolo che Wesker sembrava aver risolto con degli anticorpi al virus T, sviluppati da Jill a seguito dell'infezione contratta ai tempi di Resident Evil 3. Albert è stato però l'unico a non essere stato rigettato dal patogeno. Tuttavia, al netto della resistenza potenziata e del suo braccio tentacolare, è stato sconfitto in via definitiva da Chris Redfield e sciva all'omare in Resident Evil 5. Sul virus C o Chris Alid non vogliamo dilungarci troppo, ma solo riflettere sul fatto che sia stato il frutto di due amori non corrisposti. Tutto è cominciato quando la giovane Carla Radames è stata incaricata da Derek Simmons di lavorare al nuovo patogeno, che in sostanza era un incontro tra il virus T Veronica degli Ashford e il campione virus G ottenuto da Sherry Birkin. Il Chris Alid aveva delle unicità prodigiose perché, oltre a potenziare con mutazioni gli ospiti, permetteva loro di mantenere un buon grado di intelligenza. Si pensi ad esempio ai risultati ottenuti con gli Javo, degli infetti che potevano utilizzare senza problemi le armi e mezzi militari, ma anche all'Ustanak l'arma bio-organica è incaricata di dare la caccia a Jake Wesker. Il risultato più macabro e rimarchevole del Chris Redfield è da ricercarsi proprio nella morte e nella rinascita della Radames, indotta con l'inganno dal suo amato Simmons a sottoporsi all'esperimento. L'instabile Derek ha atteso che il bozzolo in cui si trovava Carla si schiudesse, per poi vederne fuoriuscire una perfetta copia di Ada Wong, la celebre spia a cui era legato da un amore non corrisposto. I mostri di Resedentivo sono da sempre legati al mondo della fantabiologia, ma non necessariamente al virus. Basti pensare al Nealpha, un parasita che avrebbe permesso all'Umbrella di ovviare alla rapida degradazione dei processi cognitivi delle creature basate sul virus T. Il Nealpha poteva sostituire il cervello di armi bio-organiche come il T-103, e non è un caso che proprio uno di questi sia stato scelto per sperimentarne l'efficacia. A seguito di un processo di assimilazione, il mostro si è trasformato in Nemesis, che nel dare la caccia a Jill Valentine ha dato prova di avere coscienza di sé e di poter utilizzare senza problemi armi come il lanciafiamme e i lanciarazzi. I suoi tentacoli avvelenati, i balzi poderosi e perfino la capacità di parlare ne facevano un nemico terrificante e opprimente, che di certo ha sancito la validità del lavoro di Umbrella Europe. Forse in pochi lo sanno, ma l'ingegneria genetica che ha dato vita al Nealpha si pesava su un abominio apparso in Africa occidentale in tempi remoti. Parliamo degli antropodi battezzati dagli spagnoli come Plagas, i parassiti che Lyonna ha affrontato durante gli eventi di Resident Evil 4. Sigillati dal primo castellano della famiglia Salazar nelle caverne sotterranee di una regione della Spagna rurale, sono stati riportati alla luce dal folle Ramon Salazar, che si è unito alla setta degli Illuminados governata da Osmund Sadler. Nella sua avventura spagnola, Lyonna Kennedy ha sperimentato le incredibili capacità di questi parassiti, che peraltro erano ben distinti tra loro. Assoggettate alle Plagas dominanti, quelle successive sono state inoculate negli abitanti del villaggio, chiamati Genados, e anche nei cultisti che popolavano il castello di Salazar. I parassiti dominanti invece permettevano alle guide del gruppo di trasformarsi in essere mostruosi a piacimento, si pensa la forma finale di padre Bitores Mendez. Anche in Resident Evil 5, Chris e Shiva hanno fronteggiato mostri infettati dalle Plagas, ma nessuno di questi batteva il Regeneradores nel quarto capitolo, e cioè le tali esseri rontolanti in grado di guarire da qualsiasi ferita. Prima di spendere due parole sulla possibile origine di Lady Dimitrescu, ci è sembrato doveroso focalizzarci su Evelyn del settimo capitolo. Impossibile parlare dell'arma bio-organica senza citare la collaborazione tra The Connections e la misteriosa organizzazione per la quale ha lavorato anche Albert Wesker. Gli sforzi combinati di due gruppi hanno portato alla creazione di un fungo nei primi anni 2000, che è stato sperimentato in cinque linee di soggetti ritenuti adatti ad ospitarlo. La lunga fase di testa è giunta ad un punto cruciale nel 2014, con la nascita della prima arma bio-organica chiamata E-Type. Ci riferiamo alla piccola Evelyn, il cui corpicino era perfetto per nascondere il fatto che fosse capace di produrre e controllare una sostanza di natura fungina chiamata The Mold. Come sappiamo la bimba è stata accolta dai Baker che in poco tempo sono stati infettati e assoggettati completamente al suo volere, subendo mutazioni a loro volta. Jack ad esempio è diventato semi-invulnerabile e Margaret ha assunto una forma da insettoide. Insomma, non stupisce che Chris Redfield in persona abbia voluto dirigere l'operazione per salvare i Winters ed eliminare quest'arma biologica sotto mentite spoglie. Ma quindi, alla luce di tutto il materiale che abbiamo raccolto, cosa possiamo dire sulla famiglia Dimitrescu e i mostri dell'ottavo capitolo? Cominciamo da quelli che crediamo possano essere gli elementi fondamentali. In primo luogo, il simbolo legato al controllo delle quattro casate sulla mappa di gioco è molto simile se non uguale a quello dell'Umbrella Corporation. Interessanti in tal senso sono le teorie sulla collana di Lady Dimitrescu, che secondo alcuni potrebbe raffigurare proprio il fiore da cui è stato ricavato il virus progenitor. Considerando che la donna e le sue figli erano già in piena attività negli anni 50, come confermato anche dalla Maiden Demon per PlayStation 5, è possibile che i Dimitrescu, i Benevientu, i Moreau e gli Heisenberg siano le quattro famiglie che hanno dato via alla divisione europea dell'Umbrella Corporation. Il Gorilla Man e gli umanoidi simili ai lupi a tal proposito potrebbero essere delle ibridazioni basate sul DNA di uomini e animali con l'aggiunta di un patogeno legato al progenitor. È possibile che questa organizzazione locale si sia distaccata dalla direzione Spencer, tirando su pratiche esoteriche e rituali a base di sacrifici umani, alla cui base però non si troverebbero risposte di ordine magico ma strettamente biologico. La debolezza alla luce solare e la necessità di dover assumere il sangue umano potrebbero provare la natura vampirica di Alcina e delle sue figlie, ma potrebbero anche essere dei semplici effetti collaterali degli esperimenti a cui sono state sottoposte. Le enormi dimensioni della nobile donna e la sua longevità, per fare un paio di esempi, potrebbero essere il risultato di una sorta di programma tyrant alternativo, magari condotto proprio dalla misteriosa figura di madre Miranda. La donna in realtà potrebbe non essere una strega ma una scienziata, un'ipotesi che andrebbe a braccetto con la necessità di ultimare il rituale di cui tanto si è parlato proprio con Ethan e sua figlia. Concepita da due individui infettati da The Mould, la piccola Winters potrebbe possedere una caratteristica biologica imprescindibile per la riuscita di un esperimento i cui scopi al momento appaiono, assolutamente sconosciuti. Grazie. Grazie. Grazie.